Buongiorno, mi chiamo Irene Di Carpegna e sono titolare dell'azienda agricola Terra e Acqua, più nota come Cascina Santa Brera. Siamo a San Giuliano Milanese, facciamo agricoltura biologica e alleviamo animali nel rispetto del loro benessere animale, quindi liberi di pascolare anche le galline che spostiamo tutte le settimane perché abbiano sempre l'erba da mangiare e le uova diventano molto più buone. Al mercato della terra, partecipiamo da dieci anni e le nostre uova sono diventate molto ricercate, infatti finiscono sempre prima del mercato. Facciamo anche il pane con il nostro grano che coltiviamo nei nostri terreni. Abbiamo piantato più di 30.000 alberi per avere un ambiente più pulito per la nostra attività, anche per la salute e per i nostri clienti. Facciamo agriturismo con camere e ristorazione. Sempre al pascolo alleviamo i bovini di razza varzese, che è una razza in via di estinzione, che è diventata Presidio Slow Food.